Vedete cari amici, sul quotidiano libero c'è un questionario che riguarda Francesco Totti e Ilari Blasi e c'è scritto voi 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 da che parte state vedete da che parte state e sentite cosa volete che vi dica io quando vedo una foto come questa quando vedo una foto come questa questa dovrebbe essere un'immagine della bella bella Ilari Blasi io quando vedo una foto così io dico che piuttosto che stare dalla parte di Francesco Totti io sto dalla parte di Ilari Blasi lo vedete il potente slinguettivo quando io vedo un'immagine come questa con un potente slinguettivo io dico che chi slinguetta in questa maniera non può che essere una donna tanto bella brava e buona per cui non riesco a capire come mai Francesco Totti non abbia fatto di tutto per restare con Ilari Blasi lo sapete che sono vero io sono questo signore guam vedete mi chiamo Serafino Masone allora anche voi adesso cari amici andate sul libro quotidiano come sto facendo io e compilate anche voi il questionario dite anche voi da che parte state io Serafino Masone vi dico chiaro e tondo che sto dalla parte di Ilari Blasi perché una donna che è capace di slinguettare in questa maniera deve essere per forza una donna tanto bella tanto brava e tanto buona io la penso così io la penso così io la penso così fatemi sapere voi come la pensate cari amici io la penso così bellissima cara bellissima Ilari Blasi bellissima mi dispiace tanto per Francesco Totti a te Ilari Blasi al libro quotidiano e a tutti voi tanti cari saluti da la comandata dell'imperatore a te Ilari Blasi